Sul piazzale antistante al Pirellone, simbolo del Consiglio regionale della regione Lombardia, per parlare di costi della politica, perché ieri il Consiglio regionale ha approvato la legge che prevede il taglio del 10% delle indennità, l'eliminazione del vitalizio delle indennità di fine mandato per i consiglieri. Una legge che era doveroso approvare e che è stata approvata probabilmente quasi fuori tempo massimo. Una legge che ha visto il consenso quasi unanime dell'Aula con la mancanza del voto dell'Italia dei Valori, che la ritiene troppo blanda, e l'astensione da parte di Sinistra e Libertà. Una legge di fatto che io definirei appena appena sufficiente, perché d'accordo, dà un segnale importante relativamente ai vitalizi e indennità di fine mandato, dà un piccolo segnale per quanto riguarda l'indennità dei consiglieri e lo fa però con qualche ma della serie. L'indennità va ad assorbire una diminuzione che era già stata ancorata alla diminuzione dei parlamentari. In più, la legge sgancia i consiglieri regionali dal trattamento dei parlamentari, il che significa che se per caso nei prossimi mesi i parlamentari si ridurranno lo stipendio, automaticamente non verrà ridotto ai consiglieri regionali. Altra piccola ruga o crepa in questa legge è il fatto che il vitalizio verrà eliminato a partire dalla prossima legislatura. Si sarebbe anche potuto intervenire prima, questa è almeno la mia posizione. Detto questo, per carità, meglio una legge così approvata oggi che infinite discussioni per non approvare nulla. La sensazione è che si si è dato un segnale altamente simbolico per i cittadini, però sempre con quel pizzico di furbizia che ahimè continua a caratterizzare la politica. Meglio così comunque un 6 di stima e di incoraggiamento perché in Aula è stato promesso che si andrà avanti per trovare altre forme per tagliare i costi della politica. Speriamo questo avvenga presto.